Lui era Sam Cooke, questo è Caffè Blu, il bistro radiofonico e televisivo di RB Radio, RB e TV, Radio Bequite che si evolve e diventa TV. Potete ascoltarci e guardarci anche su RB Radio, RB e TV, RB e punto IT. Una trasmissione questa che va in onda anche in replica a partire dalle 23 e siamo in diretta dal mercato di Pinerolo. Ringrazio insomma le persone che stanno passando e assistono a questa diretta. Siamo vicini al municipio, vicini al nodo. Qui insomma sarà uno dei luoghi dell'imminente notte gialla del tour, il passaggio del Tour de France da Pinerolo per presentare i vari appuntamenti che andranno in scena il 29 di giugno, sabato prossimo. Abbiamo con noi il presidente della Proloco di Pinerolo Andrea Roggio. Andrea ben ritrovato. Buongiorno Claudio, buongiorno a tutti. Vi ringrazio per l'invito che ormai è diventato un appuntamento fisso dell'ultimo mercoledì del mese. Esatto, l'appuntamento del mercoledì, ultimo mercoledì del mese per raccontare quello che accadrà a Pinerolo dal punto di vista della Proloco, insomma uno dei motori culturali della città di Pinerolo. È una bella maglietta che ricorda il Tour de France, insomma un bel ritorno a Pinerolo del Tour de France, non è la prima volta. L'ultima volta fu, se ricordo bene, nel 2011. Parliamo dell'attualità. Sabato 29 di giugno, tanti eventi per celebrare questo importante appuntamento. Sì, allora, sabato 29 giugno, terza notte gialla, la notte dedicata aspettando il Tour. Chiuderemo le strade, Corso Torrino, Piazza Barbieri, Via Saluzzo. I locali potranno mettere i Deor in strada, un po' questo è il format che si segue sempre per le notti ai Deor. In più ci sarà ovviamente un richiamo al giallo, quindi archi di palloncini gialli che coloreranno la città, una sfilata di maschera di ferro che partirà dal Museo della Cavalleria, accompagnata dai tamburini, Museo della Cavalleria che sarà aperto ai visitatori dalle 20 alle 24. Tanti concerti, musica DJ in giro per queste strade chiuse con i locali. Un punto musica in strada davanti alla gelateria veneta con un gruppo che suona balli occitani, Enca Sonar e le scuole di danza che si esibiranno su Piazza Barbieri. Ultima chicca di questa serata, due carri allegorici, se possiamo chiamarli così. Uno posizionato su Corso Torrino all'altezza di Piazza Cavour, una bici gigante che ci imprestano i Patelavacchi e i Nichelino, che è il gruppo che organizza il carnevale per Nichelino. E gli amici del Pellice invece ci hanno fatto una composizione che metteremo sempre su Corso Torrino, probabilmente all'inizio fronte Piazza Roma, con tutte delle sculture che richiamano il legame che c'è tra Parigi, la bicicletta e la città di Pinerolo. È un legame molto stretto, insomma sappiamo quanto Pinerolo ha dato e continua ad andare al ciclismo. Ricordiamo le storiche tappe del Giro, ma anche del Tour, mi viene in mente la Cunio Pinerolo, Fausto Coppi, ma anche l'attualità, gli ultimi anni che ha visto sia il Giro che il Tour, ricordiamola ancora l'ultima volta, se ricordo bene appunto il 2011, vero Andrea? Insomma, l'attualità prevede tanti appuntamenti per celebrare questo passaggio che ricordiamo, poi sarà il 2 di luglio qui a Pinerolo, martedì 2 luglio. Per ritrovarsi intorno agli eventi, agli tanti appuntamenti, Andrea come Proloco, insomma voi siete sempre in prima linea insieme alla città di Pinerolo, io l'ho definito un vero e proprio motore culturale della città di Pinerolo, uno dei motori culturali, importante perché aggrega davvero persone di tutta l'età. Che importanza ha essere parte della Pinerolo nel 2024? Insomma so che sono diversi anni che la Proloco è attiva in città. Beh, è sempre bello, poi è una frase che a me piace sempre ripetere, ringrazio di avere un bel direttivo formato da persone a cui piace organizzare, piace partecipare alla vita della città e coinvolgere le persone e questo è quello che ci piace fare e siamo contenti di poterlo fare. Tanti appuntamenti che insomma andranno in scena questo sabato 29 di giugno, le notte di Deor insomma che abbiamo già presentato in altre occasioni che ritorneranno poi per tutta questa estate 2024. Ringraziamo Andrea Roggia, Proloco Pinerolo anche sui social per avere tutte le informazioni sulle vostre attività. Certamente sì, potete seguirci sulle pagine social sul sito della Proloco. Ci tengo a sottolineare ancora una cosa che il 15 giugno, quindi due sabati fa, è stata inaugurata a Palazzo Vitone una bellissima mostra che ricorda tutti i progetti, tutte le idee, tutti i sogni dell'amico Ezio Giai a un anno dalla sua morte. Sarà aperta sabato? È aperta tutti i sabati e tutte le domeniche fino a metà luglio. Grazie, grazie Andrea, grazie per aver ricordato Ezio. Buona giornata a tutti. Buon lavoro. Musica! Lui era Jack Johnson con Upside Down e noi andiamo al contrario, guardiamo la realtà da un altro punto di vista, quello delle marionette, quello dei burattini. Abbiamo con noi Damiano Privitela. Ciao Damiano! Ciao a tutti! Bentornato su RBA. Abbiamo con noi anche Laura. Ciao a tutti! Ciao Laura, ben arrivata. Voi lavorate insieme per l'associazione La Terra Galeggiante, c'è un festival in corso, trentesima edizione del festival di teatro di figura, festival internazionale di teatro di figura, immagini dell'interno in corso fino a sabato 29 di giugno. Tra l'altro abbiamo parlato poco fa della Notte Gialla, ci saranno anche gli spettacoli in piazza, in strada del festival, vero Damiano? Sì, sì, assolutamente e qui vorrei anche ringraziare la Proloco per questa iniziativa che ci permette di tornare nelle strade via Principi d'Acaia perché, come si sa, lavorare diciamo all'esterno ha bisogno di tante tante questioni da risolvere. Quindi grazie alla Proloco che in qualche modo ospita il festival in questa occasione del tour, sperando che il tempo insomma... Che il meteo si è clemente, noi incrociamo le dita anche... Incrociamo dei piedi, dei piedi. Anche quelli dei piedi, anche l'alluce, incrociamo in qualche modo, non è facilissimo ma noi per lo spettacolo questo e altro. Insomma, quindi la magia dello spettacolo in strada che torna era una bella tradizione. Io vivo a Pinerolo dal 2010, ricordo uno dei primi eventi che ho visto a Pinerolo era il teatro di immagini dell'interno in strada e c'erano artisti e artisti che arrivavano davvero da ogni parte del mondo a portare la propria arte. Il teatro di figura, se dovessi raccontarlo in breve Damiano, come possiamo spiegarlo? Ma guarda, il teatro di figura ha una tradizione che è uguale a quella del teatro degli attori, cioè arriva da lontanissimo dove le persone invece di essere in prima fila avevano un mezzo che era quello delle marionette, un tramite per parlare, per emozionare le persone. Alla fine è quello, il teatro di figura è semplicemente un lavoro dove gli attori stanno dietro. Attori sono, chi muove sono sempre attori perché attore vuol dire agire in scena, quindi devono agire. In questo caso agiscono sui personaggi. Allora, abbiamo le marionette, i burattini, sono diverse perché la marionetta... Sì. Questa ad esempio che cos'è Damiano? Questo, allora, facciamo un breve scursus, dai veloce. Allora, velocemente, sì, velocemente. La marionetta è quella coi fili. Oh, così. E guarda, il burattino è quello in cui si infila la mano dentro. E questo invece non ha fili. E questo non ha fili e quindi come lo definiamo? Allora, questo viene definito comunque burattino. È una derivazione di una tecnica giapponese che si chiama bunraku, dove più persone agitano, muovono lo stesso oggetto o la stessa burattino marionetta. Damiano, voi al teatro del lavoro dove c'è la sede della società... della terra galleggiante, dove si tengono molti spettacoli del Festival Teatro Immagini dell'Interno. C'è quel laboratorio meraviglioso, c'è una vera e propria officina, un laboratorio di idee, un incubatore di idee in cui realizzate materialmente... Esatto. Sì, perché una cosa importante da dire è che questi personaggi, come tu giustamente li hai definiti, non sono dei pezzi di artigianato con tutto il rispetto dell'artigianato, ma sono delle drammaturgie di legno o stoffa di materiale. Quindi devono contenere qualcosina in più, devono essere quelle che poi in scena, anche senza dire una parola, raccontano qualcosa. Quindi sono drammaturgiche. drammaturgiche. Allora abbiamo appunto, sopra il teatro del lavoro, che invito anche a frequentare in qualsiasi modo, anche solo per venirmi a salutare, ma comunque in questi giorni e ogni sera ci sono spettacoli di livello internazionale, appunto in questo luogo noi facciamo questo tipo di, come dire, metaforizzazione attraverso la materia. Cioè la materia diventa metafora per dire qualcosa. Laura, qui c'è, insieme a questo burattino magnifico di cui sono curioso di sapere il nome, tra l'altro. Ha un nome, Damiano? Questo è Lubriacone. Lubriacone, hai portato Lubriacone qua. Laura, qui abbiamo un altro tipo di maschera, un altro tipo di personaggio. Laura, che cos'è questo? Questa qui è una maschera che ha fatto Damiano. Una maschera bianca, lo dico a coloro che ci ascoltano in radio. Una maschera, ha gli occhi chiusi. È una maschera che si utilizza in questo modo. Ah, vediamo. Vediamo un po' la regia, come dicono quelli bravi. Si può. Si può in vari modi. Metti la mano dentro e... In questo caso interpreti. Tu non sei più Laura, ma dai vita a questo personaggio? Esattamente. Devi proprio mandare fuori quello che deve dire, quello che deve fare. Il suo corpo comunque si muove. Il suo corpo non rimane neutro rispetto, è in relazione con questo personaggio. Benissimo. Allora, noi adesso, vorrei vedere, grazie Laura, insieme a te Damiano. Se tengo io magari il microfono, oppure Laura, non so chi dei due. L'Ubriacone qui al mercato di pirone. L'Ubriacone? E perché lasciava bene la chauffeur? Allora, è un personaggio. Ti racconto, ti racconto. C'è un preambolo. Questo quadro di uno spettacolo che si chiama Marionette in cerca di manipolazione. Questo quadro consisteva nella presa del potere di questo personaggio. Avevo utilizzato anche, diciamo, dei vecchi registrazioni e non dico altro. E questo personaggio, diciamo, che voleva diventare il dittatore, era un ubriaco. Era un ubriaco. Quindi, ecco, questo è... Eccolo qua. Si vede anche dagli occhi. Sì, agli occhi un po' storti, diciamo, ai capelli verdi. Allora, è un personaggio... Non hai caldo, ubriaco, ubriacone? Non hai caldo. Non parla. Non parla. Non parla. Lui si muove... Si muove solamente. Si muove in equilibrio instabile. Allora, io vorrei anche far notare e raccontare a chi ci ascolta il radio, quindi trasferire anche a loro, a chi ci ascolta, i dettagli dell'ubriacone, dalle scarpe, con i lacci, le giacche, la giacca meravigliosa con le tasche di fuori, con la fodera delle tasche di fuori. Ubriacone, cammini un po' storto, giustamente sei un ubriacone, chissà qual è la tua storia. Lui fa anche di più. Vola. Cosa fa di più? Vola? Eh beh, sì. È possibile? È possibile con le marionette... C'è anche le calze, guarda che no. Con le marionette... Può anche volare. Si può volare. Meraviglioso. Sul teatro di marionette vi consiglio da leggere il Von Christ, vabbè. Non so, però... Noi facciamo cultura anche così. Eh, perché no, scusa. Bisogna lanciare delle pillole. Sul teatro di marionette. E questa è solo una delle marionette. È filosofia, eh. È solo una delle marionette. Vedo che c'è anche dei buchi sul... Tipo... Sì, questo è perché questo qua poi veniva sostenuto. È un bastone che serve per tenere la marionette. Allora, perché la cosa importante, diciamo, ok, visto che il burattinaio o i burattini sono meno delle marionette, generalmente, dei personaggi di un'opera di marionette o di burattini, devono essere appesi. Allora, qua c'era un gancetto per essere appeso. Ah, eccolo qua. E' come nei burattini, tutti i burattini, se uno va a vedere in fondo del buratto, così si chiama la tela che sta sotto, c'è un gancetto per essere appeso ad un filo, in modo che si infili la mano, il burattinaio facilmente. Laura, questo burattino ubriacone è anche in grado di volare per realizzare questa immagine. Si ha già in mente che cosa si vuole realizzare? O è un qualcosa che viene fuori in progress, diciamo? È un lavoro che viene man mano, che viene creato il personaggio? Ma secondo me sicuramente uno parte con un'idea abbastanza precisa e poi sono diversi punti di vista, diversi modi di lavorare, ovviamente, però in questo caso credo che sono partiti già con un'idea ben precisa e poi mano a mano si è sviluppata. Ovviamente anche l'idea mano a mano che uno lavora, ci lavora sopra, cambia un po', no? Certo, certo. È la natura del teatro. A me piace anche la mano, la posizione delle mani, anche perché le mani sono difficili da disegnare e immagino che sia anche complicate da realizzare in legno con questi materiali. Sì, assolutamente, sono difficili da realizzare perché non ci rendiamo conto a memoria di com'è fatta e poi si rompono anche facilmente. Si vede, vedete che c'è un ubriacone, hai rotto le mani un po' di volte, diciamo, hai un po' di ferite, ma questo fa parte del mestiere. Sì, sì, sì. Allora, in chiusura, Damiano, ti ringrazio per averci raccontato la magia delle marionette, dei burattini. Grazie a te. Ci sono dei spettacoli in corso fino al 29 di giugno, piatto del lavoro, sala dei dei Cavalieri, sala dei Cavalieri. Sì, 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 io invito tutti a partecipare al festival venendo a vedere gli spettacoli, c'è stasera alle 21 al Teatro del Lavoro, Teatrino Giullare, poi domani c'è al Salone dei Cavalieri alle 18.30 e poi al 21 al Teatro del Lavoro, questo sia giovedì che venerdì. E poi sabato ci vediamo in strada. E sabato ci vediamo in strada, ci saranno cinque compagnie in contemporanea di un teatro di figura, quello che tu dicevi appunto della strada, che è anche l'origine e il richiamo alla cosiddetta commedia dell'arte in cui gli artisti si esibivano con palchetti sulle strade. E noi mostriamo l'Ubriacone che saluta RBA, dai la mano Ubriacone, lo so che è un po' difficile, vedo che anche lo sguardo, eccoti qua, grazie Ubriacone per essere stato con noi. Prego, prego. Allora parla, vedi Dagnano, questa volta gli avevo data la voce. Ringraziamo Dagnano, ringraziamo Laura, Teatro del Lavoro, Festival Immagini dell'Interno, 30 anni di Festival a Pinerolo. Buon lavoro, ciao. Venite a teatro, in ogni caso. Venite, accorrete, accorrete il numero uno. Accorrete. Musica! Musica! Fila strocca del mondo parallelo, dove posso volare su nel cielo, con due ali che mi portano lontano, più veloce di un uccello, un aeroplano, dove posso parlare agli animali e per loro rispondermi è normale, dove posso respirare sotto il mare e passare la mia vita ad esplorare. Ma sto mondo purtroppo non esiste, mi accontento delle mie conquiste, come avere tanti amici per giocare e con loro un altro mondo, un altro mondo, un altro mondo immaginare. In diretta dal mercato di Pinerolo, The Teachers! Ciao Marco, ciao Antonio! Ciao Claudio, ciao! Ciao ragazzi! Ben arrivati, ben arrivati, ben tornati su RBA in realtà. Per la prima volta, insomma, in questa versione The Teachers, perché voi siete due insegnanti, due maestri, diciamo le cose come sono veramente. Vero Marco? Sì, sì, diciamo, due maestri che ovviamente hanno tante vacanze, ma noi non siamo in vacanza. Assolutamente! Perché siamo qua, come dire... Operativi! Operativi! The Teachers, sembrava curiosa questa cosa che avete creato insieme, voi siete maestri elementari, ma che bella la figura del maestro, Antonio. La figura del maestro è fondamentale, maestro è già un termine che ti riempie, quando tu dici Maestro! Buongiorno maestro! I bambini, le bambine che ti chiamano, è bello, no? Sentite con che voce! Buongiorno maestro! Buongiorno maestro, impostatissimo! Insomma, voi avete suonato la prima delle vostre canzoni come The Teachers, che brano era questo, Antonio? Questa era una filastrocca, la filastrocca del mondo parallelo è, diciamo, un'introduzione al mondo della fantasia, questo mondo che ci costruiamo in parallelo a quello reale. Ecco, tutto questo immagino faccia parte un po' del vostro lavoro come insegnanti, come maestri, perché avere a che fare con i bambini e le bambine, Marco, bisogna avere tanta fantasia, bisogna, come dire, attirare la loro attenzione in qualche modo, bisogna portarla a casa, no? Sì, bisogna entrare in questo mondo della fantasia nel quale lui mi ha coinvolto, Antonio, attraverso un'amicizia ormai, e la musica, che poi si unisce, il lavoro, il lavoro che però, come dire, noi abbiamo bisogno di fantasia tutti i giorni, perché dobbiamo, come dire, risolvere problemi ma soprattutto non crearli. E quindi, Antonio, per cercare di attirare l'attenzione dei bambini e delle bambine, ad esempio per imparare, che so, un concetto, un'idea, la musica. Marco lo usa, ad esempio, molto per l'inglese, lui insegna inglese, fai un esempio veloce. Ad esempio? Non lo so, vogliamo imparare in inglese, il sole giallo, il cielo blu. The cat is on the table, o che so? Non so, possiamo usare la musica e facciamo molto semplice, possiamo fare. The sky is blue, the sky is blue, the sky is blue, the sky is blue, the sun is yellow, the sun is yellow, the sun is yellow, the sun is yellow. E poi proviamo a dire, allora, di che colore è il gatto? Il gatto? Is black, the cat is black, the cat is black, the cat is black. E dove, e deve ovviamente perforarti il cervello per rimanere lì. Però così facendo, Antonio, i bambini e le bambine imparano, cioè entra nel loro... Sì, sì, entriamo proprio nel loro modus, entriamo anche noi perché ci divertiamo, se non ti diverti non insegni niente, questa è una chiave del successo di ogni insegnante. E poi oltre alle cose proprio pratiche, no, didattiche, la canzone, la musica ci aiuta anche a passare dei termini e delle situazioni diverse, ad esempio la gentilezza. Sì. Ok, noi ad esempio per la gentilezza suoniamo una filastrocca, che è la filastrocca delle parole gentili, ad esempio, e per rinfrescare ai bambini l'importanza della gentilezza. In classe da me, ad esempio, l'unica regola che c'è scritta sul muro è devo essere gentile. Bello. E funziona solo quella regola lì, è sufficiente. The Teachers, Antonio Argenio e Marco Salvai con le parole gentili di Elio Gentile. Le parole gentili non pesano tanti chili, è contento chi le ascolta, vuol sentirle un'altra volta. Scusa, grazie per piacere, son parole assai leggere, sono belle ed importanti, fan felici tutti quanti. Se tu gridi e pesti piedi, non avrai quello che chiedi, starai senza per due ore, se non chiedi per favore. Queste semplici parole scaldano tutti come il sole, e uno splendido sorriso spunta sempre su ogni viso. Le parole gentili con The Teachers in diretta su RB Radio e RB TV dal mercato. Insomma, anche questo è un modo per... Ovviamente, Claudio, sono brevi perché? Perché le devono imparare, poi noi li ripetiamo un sacco di volte. Adesso non stiamo facendo lezione, quindi non me la suoniamo. Una volta solo può bastare. Una volta solo basta. Grazie, direi. Anche due. Anche due, sì, i due, dai. Allora, quindi è un modo per insegnare, per trasferire qualcosa. Insegnare è anche questo, Marco, trasferire qualcosa ai ragazzi e alle ragazze, poi loro ce lo ricordano, perché poi gli vanno in testa questa roba qua, io ne sono sicuro. Sì, sì, e il trucco che... Quanto studiamo il giorno? Dico sempre, questa cosa, me l'hai detta, ma quanto hai studiato a casa per riuscire a dirmi... Maestro, niente. No, ma non ci posso credere. Ma come è possibile che a casa non hai studiato due ore il verbo essere in inglese, ma lo stai utilizzando, lo stai mettendo in pratica? Sì, esatto, la pratica, il provarci, ma provarci veramente. Il provare, 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 perché no, anche attraverso la musica, Antonio. Questa è la conferma. Insomma, quindi è un metodo, è un modo, è uno dei modi per entrare in sintonia, in armonia con i ragazzi e le ragazze. La risposta c'è, Antonio, perché immagino che... Sì, sì. A noi piacerebbe anche fare un salto in più. Dicevamo prima, fuori onda. Fuori onda. Noi spesso portiamo i nostri figli, perché ci piace la musica, ai concerti, e concerti dei cantanti che piacciono a noi. Però, quando portiamo un bambino a un concerto per lui, a noi ne piacerebbe anche fare questo come The Teacher, cioè proprio preparare un concerto con tutta la band dietro, le luci, i suoni, a misura di bambino. Guarda, c'è un progetto che immagino che conosciate anche voi, la stanza di Greta e la musica bambina, per esempio. Noi salutiamo Leonardo e gli altri, ma so che avete fatto progetti di questo tipo, avete partecipato. E come? E ecco, la musica per i bambini, le bambine in realtà hanno un orecchio musicale più sviluppato di quello che possiamo immaginare, è vero Marco? Esatto, esatto, infatti sono, come dire, per le lingue sono portati tutti, uno dice ma io non riesco a imparare, no, in realtà il suono, il suono, cioè i bambini hanno la capacità di immagazzinare suoni e poi non esiste neanche quello di dire, ah sei stonato, un bambino non puoi dire sei stonato, è impossibile, non esiste il bambino stonato, può essere il bambino che siccome dire si mette a disposizione della musica, ecco, quello sì, ti devi mettere un po' di spazio, Antonio. Allora, le mie squadre elementari, hai trovato un bambino stonato? La mia maestra, quando ero io, mi ha detto, no Antonio tu sei stonato, stai seduto lì. Mamma mia, però che grande insegnamento, poi cos'era, Montessori, poi è un montessoriano, è immagino, per fortuna i tempi sono cambiati, e quindi vivere in un pianeta come quello della musica, un pianeta che ci permette di scambiare queste belle emozioni attraverso la musica è possibile, si può fare, Antonio Eugenio e Marco Salvai ce l'hanno dimostrato, noi vorremmo ascoltare The Teachers, speriamo che possa tornare questo progetto e possa raccontare e aggregare i bambini e le loro famiglie intorno alla musica. So che avete una canzone, un brano, una filastrocca pronta, Antonio, per salutarci. Questo è proprio mio e vuole essere un, come dire, un monito, un'attenzione a quello che sta succedendo in questo momento sul pianeta, quindi un'attenzione all'ecologia, a non dire tutto è mio e quindi ne faccio quello che voglio, no, è di tutti, di noi, di quelli che verranno dopo, è del futuro e quindi va custodito, invece su un pianeta che si chiama proprio tutto mio è successo un disastro, e ora ve lo accantiate. Hai tolto però la E, è tutto mio, invece tutto mio... Un pianeta tutto mio, con la T maiuscola. Dottini Cers, Antonio Argenio e Marco Salvai, grazie Antonio, grazie Marco per essere stati con noi. Grazie Claudio. Su pianeta tutto mio, più nessuno sta a guardare, quanta plastica è caduta dentro il mare. Su pianeta tutto mio, più nessuno sta a sentire, quando urla la montagna che sta male. Se una stella raccogli, lascia ad andare, il cielo il posto dove deve stare. Se una stella raccogli, lascia ad andare, il cielo il posto dove deve stare. Su pianeta tutto mio, più nessuno sta a toccare, la sua terra che ha la febbre ed ospedale. Su pianeta tutto mio, più nessuno sa gustare, quanto è bello un mondo al naturale. Se una stella raccogli, lascia ad andare, il cielo il posto dove deve stare. Se una stella raccogli, lascia ad andare, il cielo il posto dove deve stare. Grazie Antonio, grazie Marco. Grazie a voi, grazie a voi. Rock and roll. Rock and roll. In onda amici e amiche di RBA in diretta, il qui e ora dal mercato di Pinerolo. Siamo in piazza Vittorio Veneto, vicino al nodo concept space e al municipio di Pinerolo per raccontare quello che accadrà nei prossimi giorni. Insomma, c'è tanta attesa per il tour de France, per il passaggio del tour de France, ci sarà questa partenza di tappa, ma prima del 2 luglio, il 29 di giugno, sabato, ci saranno diversi appuntamenti, la notte gialla, non solo nel centro di Pinerolo, non solo appuntamenti all'aperto, ma anche in un luogo storico della città di Pinerolo che ho il piacere di presentare con Giorgio Breus al Veloce Club. Ciao Giorgio, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Veloce Club, insomma, è un'istituzione prima fuori onda. Ti ho chiesto, da quanti anni è attivo il Veloce Club a Pinerolo? Allora, quest'anno abbiamo fatto il 3 di aprile, un compleanno importante, abbiamo spento 130 candelini. Eh, caspita, bello. Quindi una bella, diciamo un bel traguardo. Veloce Club a me evoca la bicicletta, il legame con la bicicletta che tra poco racconteremo con gli appuntamenti organizzati per il tour de France. Era partito come club dedicato alla bicicletta? Assolutamente sì, Veloce Club arriva da Velocipide, per cui noi nasciamo 130 anni fa con un gruppo di appassionati con... non era la bicicletta, era proprio quella con il ruotone grande davanti e quindi il velocivile. Infatti dagli archivi risulta che la prima manifestazione fatta dal club è una gita in bicicletta fin verso il bivio di Frossasco, era già una distanza con quelle biciclette. Poi con quel tipo di velocivile, poi veramente eroi, coloro che hanno percorso questa strada. Per il tour de France, so che avete organizzato diverse iniziative, Giorgio. Sì, allora, qualcosa l'abbiamo già fatto. C'è una mostra in corso in questo momento di Luciano Rizzi, che è un pittore ciclista, come si definisce lui. È una persona amante della pittura, mi diceva, da sempre, del ragazzino. Poi è nata la passione per il ciclismo e soprattutto per quello storico. Quindi è uno di quei personaggi che prende la bicicletta di 50 anni fa, il vestito di 50 anni fa e va in giro a fare non solo le strade bianche in Toscana. Per cui è molto, molto interessante. Ecco, quindi per il giorno, insomma, per il 29 di giugno, questa notte gialla del tour, ci saranno diversi ospiti al Veloce Club e ci sarà questo evento e questo appuntamento. Ricordiamo anche l'orario. Sì, allora, cominciamo dal lunedì, che è la data precedente alla tappa. Noi al Veloce ospiteremo Magrini e Gregorio, che sono due conduttori, due telecronisti che lavorano su Eurosport, su Sky. E quindi ci sarà questa cena alle ore 20.30 circa, per cui chi fosse interessato ci sono ancora dei posti. Loro ci intratterranno, sono bravissimi, sanno tutto, aneddoti sui ciclisti, cose di questo genere. Magari si strempellano pure due canzoni, quindi la chitarra e si cantano due canzoni. Per cui una serata è, secondo me, molto piacevole. Ecco, tutto questo per celebrare il ritorno del tour a Pinerolo. Il Veloce Club è diventato anche un punto di riferimento per le bocce. Cioè, ricordiamo anche questa... Assolutamente. Allora, il Veloce, ritornando a poco tempo fa, 130 anni fa, si nasce con la bicicletta, ma sappiamo che già, sin dall'origine, sono presenti alcune discipline sportive. Allora, qualcuna molto praticata all'epoca, che era poi la schermo, sostanzialmente. Però abbiamo già notizie di racchette da tennis e abbiamo le bocce, già sin da allora. Anche perché le bocce nascono a Lione circa un 30 anni, 40 anni prima. Le bocce come le conosciamo oggi. E quindi queste, le bocce, diciamo che hanno attraversato e stanno attraversando tutta la vita del club. Mentre magari le altre cose sono state praticate per 30 anni, 40 anni e poi il tennis, ad esempio, si è trasferito esattamente dall'altro lato dei viali e ha continuato la sua attività. Quindi le bocce caratterizzano il Veloce Club. Assolutamente. Quindi, fine dalla sua istituzione. 130 anni e più di Veloce Club a Pinerolo, presente anche per le attività del Tour de France. Ricordo il passaggio del Tour a Pinerolo il 2 di luglio. Il giorno prima è previsto un appuntamento alla sera e poi per la notte gialla Pinerolo celebrerà questo importante evento con tante iniziative che tra poco racconteremo anche con la vice sindaca della città di Pinerolo. Ringrazio Giorgio Breusa e il Veloce Club. Un'ultima cosa, vai. Un'ultima cosa, ricordo che il giorno della tappa, il 2 luglio, al veloce sarà installato un maxi schermo per cui verrà ripresa tutta la tappa per cui gli appassionati possono tranquillamente venire lì e goderci lo spettacolo. Cincina, i 130 anni e più del Veloce Club. Grazie a Giorgio Breusa per essere stato con noi. Grazie Giorgio, ciao. Amici e amiche di RBA, ultimo blocco della diretta dal mercato di Pinerolo di questo mercoledì 26 di giugno. Un bel sole splende su Pinerolo. Siamo vicini al municipio della città di Pinerolo e del mercato che ci ospita in questo appuntamento di RBA in piazza. Tour de France, notte gialla, tanti appuntamenti che ho il piacere di presentare e di introdurre, andare nell'editore quinta di questo evento così importante per la città insieme alla vice sindaca della città di Pinerolo e assessora alle manifestazioni, Francesca Costarelli. Francesca, ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao Claudio, ciao RBA. Bentornata su RBA, insomma, 111esima edizione del Tour de France, passa anche da Pinerolo il 2 di luglio, è previsto il passaggio alla partenza della TAP, prima del 2 luglio, tanti appuntamenti in programma nel fine settimana. Sì, da venerdì in avanti davvero una pedalata per arrivare a questo martedì di festa, la partenza Pinerolo Valois e in particolare partiamo subito, insomma, cercando un po' di accendere i riflettori sul nostro centro storico, quindi venerdì sera avremo la compagnia Controtempo che ci porta a tappe per il centro storico tutto lungo via Principi d'Acaia, inseguendo il mercante di Venezia di Shakespeare. Ecco, poi sono previste nel calendario di appuntamenti, tu hai la brochure in mano, sul sito della città di Pinerolo c'è tutto il programma dettagliato, si può unire, è possibile unire ciclismo, attività sportiva e parità di genere, insomma, pari opportunità. Di cosa si tratta, Francesca? Allora, è da alcuni anni che alcune atlete professioniste, alcune cicliste professioniste francesi lavorano a questo progetto che si chiama Donnon deselovelo, e quest'anno siamo stati entusiasti di, insomma, dare subito la nostra, diciamo, il nostro aiuto, la nostra accoglienza. Vabbè, uno, perché una di questi atleti è Laura Sardu, che risaluto, è appunto italiana, nonostante appunto faccia parte di questo progetto francese, la loro idea è percorrere tutto il Tour de France, quindi esattamente gli stessi chilometri, esattamente le stesse distanze, con le stesse pendenze, il giorno prima della tappa ufficiale. Questo proprio per mettere i riflettori sul ciclismo professionista femminile, che appunto ricordiamo in realtà anche domenica sera, con lo spettacolo Alfonsina Strada, Alfonsina Corridora, su appunto la prima ed unica donna italiana ad aver fatto tutto il Giro d'Italia, ed averlo appunto completato, questa è l'idea. Quello che è interessante è che lunedì mattina, primo luglio alle ore 8, queste atlete professioniste partiranno dal Veloci Club, ma accoglieranno tra le loro fila alcuni ciclisti e cicliste italiani pinerolesi, si possono iscrivere fino in 70, in realtà ad oggi siamo una trentina, che faranno proprio la Pinerolo Valois, 3.700 metri di dislivello, 130 chilometri, 4 punte difficilissime, e metteranno appunto, che metteranno dura prova anche i nostri ciclisti, ma proprio per fare, per raccontare questo sport anche assolutamente al femminile. Come diceva Adriano De Zanne, signore e signori, chapeau. Allora, una citazione che doveva un grande delle persone che hanno raccontato il ciclismo, tanti appuntamenti che si uniscono appunto anche alla pari opportunità e al decoro, insomma all'ornare e come dire, attendere il Tour de France anche attraverso l'arte. Sì, assolutamente, in particolare abbiamo, io dico l'onore, perché è un progetto bellissimo nato nel 2020 durante il Covid, che arriva quest'anno proprio a colorare la città ed accogliere in maniera estetica e molto visibile il Tour. Sto parlando di Tessendo Arte in Tour, appunto, un progetto che ha coinvolto l'Istituto Artistico, il Liceo Artistico e tanti centri di urni e cooperative del territorio, come cucendo insieme delle piccole opere d'arte che però sono diventati dei lunghissimi, diciamo, lenzuoli, delle tele lunghissime che verranno appunto appesi da questo venerdì fino a martedì 2 luglio nei principali edifici comunali, quindi sul municipio, sul circolo sociale, sul teatro sociale, sulla biblioteca Agliaudi, sul loft e sul museo di cavalleria. Queste tele gialle, ovviamente, in onore del Tour e poi appunto un po' una tela di Penelope che insomma noi ci unisce anche per altri motivi, ho cucito insieme il piccolo pezzo di puzzle di ogni persona che ha partecipato a questo progetto rendendolo grandissimo e importante. Ci lega il progetto sull'8 marzo a Pinerolo. Tante attività insomma intorno al Tour de France per avere tutte le informazioni sul sito e sui social della città di Pinerolo possiamo recuperare tutto il programma davvero molto ricco, molto intenso. Io ti ringrazio. Francesca, vuoi ancora raggiungere qualcosa? Sì, lancio un ultimo invito. Sabato invece avremo una randonnée proprio sulle strade del Tour in partenza alle 17.30 dal Veloce Club e può partecipare chiunque anche con biciclette assistite. l'idea è proprio di farci una pedalata insieme e parteciperanno anche i sindaci del territorio quindi venite sfida il sindaco si parterà dal Veloce si farà tutta la pista ciclabile fino a Villarperosa per poi affrontare la salita di Pramartino e tornare in completa sicurezza da San Pietro. Questo per vedere appunto il nostro territorio in attesa dei grandi ciclisti. Con le due ruote con le due ruote della bicicletta che sarà celebrata a Pinerolo per questo passaggio del Tour la notte gialla e tutte le altre attività. Io ti ringrazio Francesca per essere stata con noi buon lavoro ancora un breve start musicale prima dei saluti. Ritorniamo in onda giusto per i saluti amici e amiche di RBA abbiamo trasmesso dal mercato di Pinerolo ritorneremo qui l'ultimo mercoledì di luglio al mattino il mercoledì per trasmettere tutto ciò che accade insomma per vivere l'atmosfera del mercato di Pinerolo attraverso le arti tutto ciò che di bello accade a Pinerolo ringrazio per questa diretta gli ospiti le persone ospiti che sono passate con noi qui nel nostro stand di RBA ritroverete tutta la diretta sul canale YouTube di RBA Radio e RBA TV e ringrazio i tecnici Samuele Benece alla parte tecnica e Alberto Rica che ci ha aiutato tantissimo e voglio salutarlo particolarmente Andrea grazie per essere stato con noi tu finisci finisci qui la tua esperienza come ci ricordiamo che cosa hai fatto con noi ho fatto il servizio civile qui in radio benissimo un'esperienza bellissima e un saluto a tutti e grazie per essere stato con noi tu sei stato hai fatto molta regia con me quindi ti saluto e ti auguro un bocca al lupo ciao amici e amiche di RBA vi auguro di trovare anche oggi tanti bei motivi per sorridere ciao ciao